Proposte, diritti e riforme per un nuovo sistema funerario. E questo è il titolo del convegno organizzato a Nuoro dall'amministrazione comunale. Al centro dei lavori la proposta di legge che intende riformare la disciplina del settore. All'incontro, coordinato dall'assessore comunale all'urbanistica Mondiano De Iara, ha preso parte il senatore Stefano Vaccari del PD, primo firmatario del provvedimento di legge. Noi ci siamo posti l'obiettivo di avvicinare i servizi funerari e cimiteriali del nostro paese agli standard europei, sia per ciò che riguarda i requisiti minimi che devono avere le imprese che esercitano in questo settore, sia per quanto riguarda le offerte di servizi cimiteriali ai cittadini, che per quanto riguarda il centro nord del nostro paese è sicuramente adeguata per il sud e le isole, ha bisogno di nuovi investimenti e anche di pianificare meglio le strutture per la cremazione. Ci siamo posti l'obiettivo quindi di riformare in modo strutturale una legislazione che è antiquata e in alcuni casi anche superata, frammentata da troppe leggi regionali che si sono sovrapposte e quindi l'idea è quella di dare al nostro paese una normativa quadro in grado di recuperare soprattutto una situazione di illegalità e di evasione fiscale che caratterizza in modo strutturale questo settore, dando la possibilità alle imprese sane, robuste e qualificate di ovviamente essere premiate e di fare da ponte rispetto a un cambiamento di cui questo settore ha sicuramente bisogno. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è garantire libertà di scelta a tutti i cittadini. Ad oggi il cittadino onorese è sostanzialmente svantaggiato anche su questo. Oggi un cittadino che volesse effettuare una cremazione è costretto a tempi d'attesa che non sono degni per il congiunto e per il defunto. Il disegno di legge prevede ambiti ottimali nelle sedi in cui sono presenti le sedi provinciali Aslo e noi ci candidiamo come possibile sede ottimale per la provincia di numero allargata.